salve care amiche cari amici qui il vostro capitan santin chan sono uscito a comprarmi un paio di scarpe me le ha regalate mia madre perché io sono disoccupato e da più di cinque anni che andava in giro con le stesse scarpe eccole qua logicamente se possono vedere poco niente perché sono nere ma io ho bisogno di scarpe dalla pianta larga perché porto la suola ortopedica da quando ho avuto un cedimento dell'arco plantare infatti potete vedere che una delle due scarpe la destra è più allargata della sinistra che sembra più smilza vedete qua dove c'è il bozzo ecco qua ci sono le ossa perché m ceduto l'arco plantare e allora ho bisogno di questo tipo di scarponcini qua ci stanno le scarpe che ho indossato per più di 5 6 8 anni come potete vedere in pratica sono delle ciofe che tutte cedute tutte scuscite in pratica care amiche e cari amici sono ritornato a casa qua gli devo mettere qua accendo il computer per editare il video sono ritornato a casa dicevo con le mie scarpe nuove ed erano erano anni che utilizzavo queste questo schifo qua che erano belle quando l'ho presi ma che poi guardate un po che roba dopo anni anni di uso questa è la destra che è quella più più danneggiata come potete vedere questa addirittura scucita qua sopra qua la potete vedere queste in pratica le avevo smesse di utilizzare perché erano ancora più rovinate come vedete qua se bucate alla punta queste hanno sempre 5 6 anni le ho comprate insieme a quelle di prima le usate al massimo proprio le utilizzate al massimo sono buone sono resistenti la marca hp ma guardate qua un buco sopra ma come se non bastasse un buco pure qua nella cucitura e quindi anche queste sono da buttare via in pratica perché poi sono sformate e già ho i piedi deformati io e quindi l'arco plantare che devo utilizzare non funziona non c'è contenzione piede e questi sono dei vecchi stivaleti di cuoio che mi sembra che sono ancora buoni li devo provare perché questi non li ho deformati però sono molto 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 pesanti e stancano poi bisogna vedere se hanno il collo del piede basso perché in questo caso mettendoci l'arco plantare la sua letta anatomica voglio dire ogni volta che dico arco plantare la sua letta anatomica ecco già mi stanca la mano tenere queste questo paio di stivaletti perché peseranno 5 6 chili tutte e due però anche 4 kg 3 kg insomma se hanno il collo basso mi strozzano il piede perché io gli devo mettere la sua letta anatomica e poi sono anche questi molto usati anche se non li ho deformati così miei care amiche e miei cari amici vi ho fatto vedere oggi lunedì 14 ottobre alle 17 2 adesso sono le 17 2 ma io sono uscito prima che cosa ho fatto non so se caricherò questa notte il video o gli darò edizione lo caricherò domani come ho fatto col video che ho caricato oggi della cena di ieri grazie di seguirmi sono ancora il debito con voi per fare il video su un racconto di havar philip lovecraft commentate questo video e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo e saluta il vostro capitan saint jean a presto ai vostri ordini ciao ciao